Siamo tornati! Appunto, No Fly Zone, siete pronti? No. Siete pronti quasi. Dove sono gli altri? Uno è arrivato... Allora, tu ti chiami il PG, vero? Nascondi gli strumenti, nascondi gli strumenti e raccontaci da quanto... Voi siete tutti e tre di Ascoli. Noi siamo di Ascoli, puro sangue. E facciamo un rap molto particolare, perché non è il solito rap dei gruppi italiani, fatto con i piatti, con basi di altra gente. No, noi facciamo il rap nostro, suonato e durissimo e spero che vi piaccia. Non è affatto attendibile. Senti, Pierluigi, vieni qua, appogliamoci questo microfono mentre i tuoi amici... Tu usa questo, facciamo così, così siamo più tranquilli qui. Sì, sì. Perché vedo che i tuoi amici... Siete pochi, ma avete bisogno di molto tempo per prepararvi, mio padre. Allora, comunque presentiamoli. Lui è Pierluigi e ve l'ho già presentato. Poi c'è ancora... Lui? Altra voce, altro cantante. Zanzi! Ragazzi, un applauso per Zanzi! Questa testa è quello che il genere umano fa agli animali e anche anche alla parte degli uomini. Non fly zone. Noi siamo il microfono per portare la nostra voce. Non fly zone. Senza rischi. Senza rischi. Ci hanno avvertito non volare in quella zona. È vietato volare in quella zona. E noi ci abbiamo pensato perché hanno toccato i nostri cuori, perché qualcuno è sempre in guerra. E allora... Questo questo segnala... E se capite le parole, sentatevi decodificatele. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.